Amici di Quarta Parete, buon pomeriggio, sono qui ai giardini della Filarmonica, 26esima edizione dei Solisti del Teatro, questa sera ore 21, da Annunzio Mondano, un testo di Mari Calaboggio, messa in scena dalla Compagnia dei Maznadieri, ovvero da Massimo Roberto Beato, buonasera Massimo, Jacopo Bezzi, e dietro alle mie spalle Elisa Rocca, Sofia Chiappini e Alberto Meloni. Buonasera a tutti voi, un omaggio al grande Vate Abruzzese, un autore importante che ha scritto capolavori come Il Piacere, Le Virginie Rocce, La Figlia di Gioio, L'Innocente, tanto per citarne qualcuno, ma anche un grande affabulatore, un grande seduttore, che lasciava sul campo i meriede di donne, che poi rinnegate da mariti e padri. Oppure, insomma, sfoggiava voce suoi denti per conquizzare. Ecco, allora, chiedo a te, Jacopo, che tu curi anche la legge di questo spettacolo, non va bene come cappello introduttivo? Ottimo, stupendo. Allora, che dannunzio vedremo questa sera? È un dannunzio un po' inedito, perché, insomma, l'immaginario collettivo ce lo dipinge appunto come grandissimo poeta, un personaggio assolutamente... In queste cronache mondane giovanili, diciamo così, che lui si azzarda a raccontare, ormai, diciamo, già adulto, già celebre, eccetera, ripercorre un po' quello che erano appunto questi salotti della Roma-Ombertina, in cui lui girovagava... Andava a nozze, andava a nozze proprio. E effettivamente tutte le scene che vedremo, Marie Graboggio ha scritto un testo molto divertente, ispirandosi ovviamente alle cronache mondane, originari appunto di D'Annunzio, ma lo vedremo appunto, non soltanto lui, ma anche gli altri personaggi che i ragazzi interpreteranno, vedremo proprio quelli che sono i vizi, i difetti, ma anche appunto le pruderie di una certa Roma... Un po' il gossip dell'epo. Esatto, esatto, ma è molto gossiparo questo D'Annunzio. Ed è effettivamente mondano. Era finito poi anche del suo tempo, no? Assolutamente, assolutamente, anche perché tutta la nobiltà nuova che si formava, lui la criticava assolutamente, quindi insomma, queste contattazioni... Queste baronese che in realtà erano tutt'altro e quindi tutta questa apparenza, questo grande fiorire di costumi, di cose, abbiamo cercato anche di riprodurlo con la scenografia, con i costumi, insomma, in questa versione ovviamente un po' più sintetica per questo ambiente ovviamente molto bello che è Giardini, che già di per sé è Liberty e quindi ci piace molto. Massimo, tu insomma, o ti chiamovate? Come vuoi. Allora, possiamo confermare senza smentita che D'Annunzio è stato un uomo molto divisivo, no? C'è chi l'adorava e chi ovviamente lo detestava, no? Tant'è che Minguei lo apostrofò semplicemente con un coglione. Si può dire, è sdoganato ormai, si può dire, mentre una cortigiana della bella epoca lo definiva un uomo, diciamo, insulso, con gli occhi circondati di rosso, i denti verdastri, insomma, è un atteggiamento da cialtrone. Esatto, esatto. Mi dicono che assomiglio molto a D'Annunzio, spero ora non in questo senso, non è una descrizione proprio molto bella. No, però qui in realtà noi ne mettiamo in evidenza un lato un po' più goliardico, un po' più, come dire, appunto mondano e quindi più leggero e quindi sicuramente è uno spettacolo all'insieme della leggerezza e del divertimento. Uno spettacolo un po' estivo, sì, sì, sì. Fresco. Esatto, esatto. Allora, Sofia, ci sei? Ci sei. Allora, D'Annunzio era anche un uomo dal forte carisma, no? Cioè era molto narciso, spregiudicato e aveva, poi ricordiamo inoltre che questo grande amore per la Nora Dusa, no? Cioè al di là che lui fosse un tomber de femme, no? Però questo grande amore, insomma, voglio dire, rimase un po' epico, no? E quindi, Sofia, ti volevo chiedere, è quest'uomo appunto così narciso e... È una domanda tra bocchetto. È una domanda tra bocchetto, esattamente, però fu uno dei primi a capire la cosiddetta comunicazione di massa, sei d'accordo? Sì, oddio, non è un argomento che affrontiamo forse nel dettaglio, non lo spettacolo. È un argomento del personaggio. Sì, sicuramente la capacità di comunicare a tutti. Perché era molto carismatico. Perché era molto carismatico, perché sapeva esattamente quali fossero le passioni e i difetti della sua epoca. E quindi noi in realtà mettiamo in scena questo, mettiamo in scena un tableau vivant, ovvero mettiamo in scena una sorta di quadro in movimento che in qualche maniera vuole scherzare, vuole, diciamo che l'ironia poi diventa l'arma più potente. In questo senso anche la comunicazione di massa veramente intelligente deve usare l'ironia. E questo non significa essere leggeri to cure, no? Sarebbe una semplificazione. Sarebbe una semplificazione. E diciamo che anche da parte nostra il lavoro è stato sicuramente di leggerezza, ovvero di, come dire, divertimento. Però è quel divertissement, che stiamo facendo tutti francesi. Esattamente, ma perché è anche, come dire, la capacità di cogliere il dettaglio, l'ornamento e in qualche maniera di trovare una ragione però vera. In fondo è arte come vita questo spettacolo e lo è d'annunzio. Bene, mi pare la risposta esaustiva. Promossa. Assolutamente. Da tesi di laurea. D'annunziana. Elisa, allora, questo... Quindi si affronta fondamentalmente a un dannunzio un po' dandy? Eh, molto dandy. Circondato da queste donne, anche loro, molto dandy, un po' svenevoli. Io ne interpreto tre in particolare. Molto... Le puoi citare? Sì, la contessa Condorelli, ad esempio. Che vuole stare un po' su, ecco. E poi, insomma, altri personaggi che frequentavano il suo mondo, che con lui si divertivano, che chiaramente sfruttavano il loro fascino nei confronti del bate e il fascino del bate nei loro confronti. E anche un po' per comparire nelle sue cronache mondane, per risultare, per apparire in questa società. Non è cambiato nulla, mi sembra. Non è cambiato nulla, secondo me, però, come diceva magnificamente Sofia, la capacità, quello che ho sempre amato di Danunzio, è proprio la capacità di creare col linguaggio questi mondi. Io credo che nel testo di Maricla questa cosa sia assolutamente presente, cioè proprio il piacere di raccontare la realtà attraverso un uso sapiente del linguaggio. Era molto ricercato. Era molto ricercato, era inventivo, era immaginifico, immaginifico. E quindi, insomma, cerchiamo di rendere onore a quest'autore e a quest'autrice. Alberto, chiudiamo con te, insomma, Danunzio non possiamo, quindi, per quanto se ne possa dire, gettare un'aura negativa, no? Cioè, comunque ha degli aspetti interessanti, no? Quello senza ombra di dubbio, diciamo che in qualche modo rappresenta anche un po' la storia del nostro paese, nel bene e nel male. Poi era un'interventizza, quindi, insomma, era gagliato. Era sì, assolutamente. E sì, sì, senza ombra di dubbio. E oltretutto, questo, devo dire, secondo me è stato, non la parte dell'intervenzione, devo dire che è stato... Alberto potrebbe stare male. Potrei stare, sì, sì, e poi, appunto, vado a sdoganare anche storie di famiglia a quel punto. Saghe familiari, sì. Una famiglia connessa strettamente a Danunzio. Ma possiamo raccontare l'aneddoto dell'Accendino? Sì, veramente. Possiamo raccontare l'aneddoto dell'Accendino. Allora, il mio bisnonno a questo punto era, diciamo, che faceva parte dei suoi uscocchi durante la presa di fiume e la leggenda familiare vuole che una sera, andando verso fiume, Danunzio si mise davanti ai suoi uscocchi e raccontò questo aneddoto dicendo In questo Accendino sono racchiuse tutte le mie opere. Lo prova ad accendere e dice forse che sì, forse che no. Poi accende, arriva la fiamma e dice il fuoco, si accende una sigaretta, il piacere, e questo è un po' la storia. Diciamo. E questo Accendino si vedrà. Assolutamente sì. Allora, ricapitolando, questa sera ore 21, oggi siamo a mercoledì, mercoledì 17, quindi ore 21 e 30 forse, 21 e 30, Giardini della Filarmonica, Danunzio Mondano, Compagnia dei Masnadieri, Danunzio, cioè Massimo Roberto Beato, Jacopo Bezzi che cura anche la regia, Elisa Rocca, Sofia Chiappini e Alberto Melone. Grazie a tutti voi e in bocca al lupo e sempre buon teatro, ragazzi. Buon teatro. Buon teatro. In questo Accendino sono racchiuse le mie opere. Forse che sì, forse che non. Il fuoco. Il piacere, il notturno, l'innocente. Sogno i tuoi occhi blu, blu come il cielo tu, sogno il tuo viso, il tuo sorriso che mai mi scorderò. Sogno le mani pure, dentro le mani mie, sogno il tuo viso io.